Guarda, ha visualizzato e non risponde, ce l'ha sicuramente con me. In questa rubrica vedremo i principali virus mentali e ti darò delle piccole e semplici indicazioni per imparare a vivere appieno le tue emozioni e migliorare il tuo equilibrio psicologico. Sei pronto? Partiamo insieme! Sono Simona Ratta, psicologa e psicoterapeuta perfezionata in psicopatologia dell'apprendimento ed MDR. Dal 2010 mi occupo di bambini, ragazzi e giovani adulti con diverse difficoltà e problematiche psicologiche. Se vuoi saperne di più su di me, visita il mio sito internet www.odipa.it e i miei diversi canali social. In questa puntata parliamo del virus mentale della personalizzazione. Questo virus consiste nel pensare che ciò che dicono e fanno gli altri sia in relazione con noi. Ad esempio, ce l'ha con me, è rivolto a me quel messaggio negativo. Se ti attribuisci la colpa per qualsiasi cosa o pensi che ciascuna situazione è influenzata da te, ma come ti senti tutti quanti i giorni? Probabilmente molto inadeguato e potresti provare dei forti sentimenti di vergogna. Nel virus mentale della personalizzazione ci casca solitamente una persona insicura, una persona che teme il giudizio degli altri, chi ha bisogno di sentirsi approvato perché teme la critica altrui. Questo virus ti porta a prendere sul serio ciò che stai pensando, senza portarti ad indagare le reali motivazioni che portano le persone ad agire in un determinato modo. Facciamo un esempio per capire meglio come agisce questo virus. Ad esempio, arrivi sul posto di lavoro, oppure entri in classe e vedi dei tuoi colleghi o dei tuoi compagni che improvvisamente si mettono a ridere. Il virus mentale della personalizzazione ti porta a pensieri di questo tipo. Ecco, ce l'hanno con me, sicuramente stanno parlando male di me. Oppure, quella persona non mi ha salutato, ha sicuramente cambiato strada perché non mi può vedere. Il virus ti fa credere che tutto ciò che gli altri dicono o fanno è in qualche modo collegato esclusivamente a te. Per ciò che dici, per come lo dici, insomma, la colpa è sempre tua se non piace alla gente, capito? Questo ti dice il virus mentale della personalizzazione. Puoi inoltre riversare la colpa o esclusivamente verso di te oppure verso gli altri. A volte ti addossa la colpa per un problema che potrebbe essere totalmente fuori dal tuo controllo e ti porta a pensare, uffa, lo vedi, è colpa mia. Altre volte dà la colpa ad altre persone, negando le tue responsabilità sul problema, facendoti pensare è tutta colpa sua. Se il virus mentale della personalizzazione prende il controllo delle tue credenze e delle tue convinzioni, sarai fortemente preoccupato del giudizio degli altri. E allora come possiamo affrontare questo virus? Non essere troppo duro con te stesso, non addossarti i problemi altrui. Razionalizza i brutti pensieri e fermali. Considera l'intera situazione nella sua interezza. E poi poniti le giuste domande e metti in discussione questo virus. Chiediti. Punto numero uno. È davvero colpa tua? Il problema ti riguarda in prima persona? E quali sono le prove oggettive e reali che lo dimostrano? Due. Quali altre possibili spiegazioni ci potrebbero essere in questa situazione? L'altro voleva veramente ferirti? Oppure stava pensando ai suoi problemi da risolvere? Prima di trarre conclusioni affrettate, ricorda che ci sono tantissime cause che contribuiscono a creare quel problema. Punto numero tre. Cerca di considerare la situazione da altre prospettive. Ad esempio, il mio amico Paolo come interpreterebbe questa situazione? Sono proprio le spiegazioni che ti dai, troppo colpevolizzanti a farti stare male. E allora, allenati giorno dopo giorno, soprattutto se ti accorgi che il virus mentale della personalizzazione ha preso possesso di gran parte delle tue scelte e decisioni. Ovvero che tutti quanti gli altri che ti circondano ce l'hanno con te e che è quasi sempre esclusivamente colpa tua per tutte le cose che succedono. Ferma questo virus prima che trasformi tutti quanti i tuoi pensieri in limitanti credenze e convenzioni. Se hai trovato utile questo video, condividilo con i tuoi contatti, lascia un like e fammi sapere le tue riflessioni nei commenti qui sotto. Ricordati di iscriverti al canale per non perderti le prossime puntate di approfondimento e di cliccare sulla campanella per essere avvisato dei prossimi video in uscita. Se vuoi invece il mio aiuto per affrontare i tuoi virus mentali, allora vai nel link di descrizione sotto questo video e prenota la tua consulenza con me. E ricorda, ciò che pensi determina la tua realtà. Grazie per la visione!